Continuous Integration, come farla bene per davvero. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere le migliori pratiche da applicare nel Continuous Integration. Ah, mi raccomando, se da questo video imparerai qualcosa o ti piacerà, metti un bel pollicione in su e iscriviti al canale per rimanere notificato sulle prossime uscite. La Continuous Integration è una pratica di ingegneria del software che nasce ormai circa 24 anni fa, o meglio, la vediamo teorizzata o mal definita e spiegata da Martin Fowler nel suo sito stesso il 10 settembre del 2000, quando parla di un progetto di automazione completa su build riproducibile che includono il testing. Quindi possiamo dire che ormai è un progetto che dovrebbe essere super noto, ma non dobbiamo rimanere sorpresi quando ci accorgiamo in realtà a volte di quanto spesso manchi o non venga applicata nella sua interessa e con tutte le best practice al contorno, perché di solito ci si ferma semplicemente sull'automatizzare una build. Ma andiamo a vedere cosa c'è di più, anche perché è una delle pratiche che viene ritenuta tra le più importanti dal Cora Model di Dora, lo vediamo subito qui, sul Continuous Integration, quindi un team la deve padroneggiare e sapere bene cosa gira intorno a questa pratica. I sistemi software sono complessi, lo sappiamo benissimo, e sappiamo come un cambiamento in un singolo file possa avere conseguenze in un'altra parte completamente staccata della codebase, in particolare potrebbe anche portare a una non compilazione dei nostri sorgenti. La Continuous Integration nasce per risolvere questo problema, ovvero avere un feedback il più anticipato possibile per prevenire o correggere più velocemente queste problematiche. Ecco quindi che la Continuous Integration prevede cosa? Che si possa frequentemente, il più frequentemente possibile, frequentemente, e dalla definizione di Martin Fowler potrebbe tranquillamente essere più volte al giorno, più volte al giorno, i team integrano i loro sorgenti e li compilano in maniera automatizzata, quindi ogni integrazione, ogni qualvolta c'è un commit, un check-in, chiamiamolo come preferite, sulla main, sulla linea di sviluppo principale, main, trunk, master, a seconda, deve scatenarci un processo di build automatizzato, ok? Quindi Continuous Integration dice, integrate più frequentemente possibile, possibilmente in un contesto di team deve avvenire più volte al giorno, e a ogni check-in deve corrispondere un processo di build automatizzato. Non solo deve esserci la compilazione automatizzata, ma deve anche essere eseguita una suite di test automatizzati, veloci, affidabili, e che diano un feedback nel giro di pochi minuti. Tipicamente quelli che vediamo in un scenario di Continuous Integration sono i cosiddetti unit test. Gli test end-to-end o test integration sono assolutamente importanti e da avere, ma il contesto della Continuous Integration non è casa loro, perché possono essere lenti e quindi vanno a rallentare e diluire quel feedback che andiamo a cercare proprio nella sua rapidità. Da tutto quello che abbiamo detto ne deriva di conseguenza che per implementare Continuous Integration abbiamo bisogno di un processo di build automatizzato, processo di build automatizzato, che deve girare in una piattaforma centralizzata, può essere un GitLab, un GitHub, un Workflow, un Azure Pipeline, a seconda della piattaforma, degli strumenti che abbiamo a disposizione. Ormai le tecnologie sono super mature in questo ambito, quindi dobbiamo avere un processo, uno script, un qualcosa che ci permette di automatizzare la nostra build, e che in maniera facile e pratica permetta di farlo partire a ogni commit sulla linea main di sviluppo. Poi dobbiamo quindi implementare i test automatici, quindi dobbiamo investire e imparare quelle che sono librerie o framework di testing, soprattutto per implementare unit test e la nostra codebase li deve supportare. Infine dobbiamo avere dei report dettagliati, un sistema di feedback, cioè la nostra piattaforma su cui ci basiamo deve darci dei feedback automatici, fare delle notifiche da qualche parte su un canale Slack, su Team, quello che vogliamo, per informarci che la build in particolar modo è andata male o dei test sono falliti. Ok, bello Michele, fino qui tutto bellissimo, mi hai convinto, però questo significa che se io devo integrare frequentemente, cioè almeno una volta al giorno, però io ho degli sviluppi lunghi che mi impiegano tanti giorni o anche delle settimane e io non riesco tutti i giorni a fare dei commit su main e a far partire le mie procedure automatizzate. E' vero, sì, questa è una delle obiezioni che si possono sollevare sul continuous integration, quindi se io ho sviluppi lunghi, sviluppi lunghi, allora io non riesco a trarne beneficio perché comunque non riesco a integrare più volte al giorno. Questo è un problema che può tranquillamente essere risolto, nel senso che un approccio strutturato a continuous integration, un approccio profondo e maturo, va perfino a impattare su come le feature, o chiamiamole user story a seconda del linguaggio che preferiamo, che il team di sviluppo deve implementare, devono essere scritte o spacchettate o divise in maniera diversa. Quindi se ho delle feature troppo grandi, ok, se il team lavora su dei batch grossi, devo andare a fare un cambiamento e andare a scrivere quelle che sono delle user story, dei requirement e più, quindi cambiare il modo di vedere le feature, ok? Quindi devo andare a spacchettare il modo in cui io sono abituato a lavorare in unità di lavoro più piccole. Faccio un esempio. Immaginiamo di dover sviluppare una schermata di questo tipo, cioè devo mostrare una lista di elementi, qui abbiamo i file all'interno di un repository, ho preso la pagina di repository di Azure DevOps, che ti permette di navigare all'interno di un repository su Azure DevOps, e abbiamo anche delle funzionalità di ricerca, appunto la lista e così via. Per riuscire ad avere unità di lavoro più piccole, dobbiamo abituarci a spaccare quello che può essere magari un mockup grafico in feature più piccole, in user story più piccole possibile. Allora la prima che a me avrebbe in mente, una user story che io farei è quella di dire una user story che mi permette di implementare la pagina in generale, cioè che la pagina esiste, magari se ne vede il titolo e poco altro. Questo mi permette di avere subito un ciclo di sviluppo che magari dura uno o due giorni, e riesco poi a fare pull request e chiudere. Un'altra user story che io farei sarebbe poi quella di dire come utente vorrei visualizzare l'elenco dei file contenuti, e mi concentrerei sulla pura visualizzazione. Magari potrei prendere in considerazione l'ordinamento delle colonne, per esempio per nome o per ultimo cambiamento. Poi un'altra user story, sarebbe quella che al momento la vediamo qui coperta, potrebbe essere lo scenario di ricerca, quindi come utente vorrei cercare i file all'interno di un repository, e di nuovo mi concentro solo su questa funzionalità ben specifica. Poi potrei interessarmi a quello di cambiare branch, e poi potrei interessarmi a quella di andare a visualizzare la history. Poi potrei concentrarmi su quello di mettere a disposizione un pulsante clone, oppure questo addirittura potrebbe essere una delle prime funzionalità. E poi andare a esaminare le funzionalità sotto il pulsante setup build, e così via. Quindi devo allenare il mio occhio o anche il team a spaccare il lavoro, invece che dire voglio implementare questa intera funzionalità di navigazione all'interno di un repository, ma andare a spaccare nelle unità di lavoro più piccole possibili, che possono effettivamente dare un risultato, che lo sviluppo duri poco e possa quindi esercitare la mia continuous integration. Invece gli errori più comuni che si vedono durante l'implementazione di una continuous integration riguardano più anche aspetti magari di consapevolezza o di dettaglio. Per esempio, una cosa estremamente importante è che tutto deve essere in source control. Non dobbiamo lasciare dei pesti dell'applicazione fuori, cose del genere. In particolare, di solito viene trascurato il database, ma ci dedicheremo al database change management un episodio intero. Il processo di build ovviamente deve essere automatizzato, ma una cosa estremamente importante è che se intervenire sulla build subito, se si rompe, se il nostro processo automatizzato diventa rosso per qualunque motivo, sia esso per i test o perché cambia un po' la nostra codebase e il processo di build si deve adeguare, sostanzialmente dobbiamo intervenire subito. Qualcuno nel team se ne deve prendere carico e sistemare la situazione con la massima priorità perché il nostro processo di continuous integration è quello che permette di creare gli artefatti che poi andremo a distribuire negli ambienti di produzione. Quindi se la nostra fabbrica, se il nostro forno, se la nostra linea di produzione non è in grado di sfornare i nostri applicativi, siamo completamente fermi. Bene, quindi cosa posso tenere d'occhio? Come posso misurare? Cosa posso guardare per capire se il mio team sta facendo bene il continuous integration? Posso contare il numero di build a settimana, per esempio, o il numero di build al giorno che partono in automatico, automatizzate, non contano quello che il developer fa da solo nella sua macchina di sviluppo. Posso andare a vedere quanti test automatizzati vengono eseguiti a ogni run o quanti falliscono e così via. E, per esempio, quanto tempo ci si mette a riparare una build rotta. Questi sono sicuramente degli indici che io metterei in piedi. Per esempio, con un uso consapevole di Azure DevOps, queste cose vengono abbastanza a casa gratuitamente. Basta pensare che, per esempio, nella home page di Azure DevOps viene subito messo un indicatore di quante pipeline in percentuale vanno a buon fine. Subito qui, quindi capiamo subito che è un indicatore estremamente importante. Bene, per la pratica di continuous integration è tutto. Abbiamo visto la sua importanza e come deve essere fatta fino in fondo senza lasciare dei pezzi per strada. Abbiamo visto nei video precedenti la code Maintainability. Se non l'hai visto ti invito ad andare a recuperare e cercare nel mio canale dove ne abbiamo parlato. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!